Un secondo covo utilizzato dal bossa della mafia Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì, lo hanno scoperto i magistrati della procura di Palermo e i carabinieri del Rossa. Oltre all'appartamento a Campobello di Mazzara, il capo mafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all'interno di un'altra abitazione nella stessa area, a segno che la zona del Trapanese è stata per 30 anni il suo feudo. Non è ancora chiaro però se si tratti del luogo in cui Messina Denaro abbia nascosto il vero tesoro, documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano.